Musica Corruzione ha arrestato il sindaco nel napoletano, irregolarità nelle gare d'affalto, ai domiciliari il primo cittadino del comune di Grumo Nevano, Pietro Chiacchio, manette anche per un vigile urbano e un assistente della polizia penitenziaria. Renzi in Campania, rilanciamo il sud, il viaggio del segretario nazionale del PD dopo Pestum ha fatto tappa Benevento e Flumeri, nel Sannio mantenuti gli impegni sul dopo alluvione, incontro in Valle Ufita con le tute blu, ripartita l'ex Iris Bus. Esce dal carcere e i killer gli sparano. Aguato stamane davanti al penitenziario di Secondigliano, un detenuto in semilibertà di 46 anni è stato vittima di un agguato. Ora è gravissimo da chiarire il movente del ferimento. Camorra, preso il reggente del clan, si nascondeva in una villa in provincia di Latina. Il capo della Cosca dei Contini, condannato a dieci anni di carcere, era latitante da tempo. Avrebbe dato vita all'alleanza di Secondigliano, una delle federazioni criminali più pericolose a livello nazionale. Muore bimbo di due anni, sciocca Monteforte. Il piccolo era stato ricoverato al Cotugno per una sospetta meningite. Dolore nel paese erpino, l'annuncio dato dal parroco di Avella su Facebook. Preghiamo per questo piccolo angelo. Lucida artista si parte in ritardo. Ora è ufficiale, il sindaco di Salerno ha ammesso che per via del ricorso al tarre il montaggio delle luminarie ha subito uno slittamento. Salta l'inaugurazione prevista per il 3 novembre, ma è corsa contro il tempo. Buongiorno e ben ritrovati con il nostro Tg in apertura. C'è la cronaca, corruzione e fuga di notizie dalla procura di Napoli. Arrestato il sindaco di Grumo Nevano insieme a un vigile urbano e un agente di polizia penitenziaria. Sentiamo il servizio. Questa mattina all'alba i militari della Guardia di Finanza hanno fatto scattare le manette ai polsi del sindaco di Grumo Nevano, Pietro Chiacchio. Insieme a lui sono stati arrestati Antonio Pascale, vigile urbano in servizio presso la polizia municipale di Grumo Nevano. È un assistente della polizia penitenziaria. Gravissime le accuse nei loro confronti. Corruzione, favoreggiamento personale, rivelazioni di atti d'ufficio è falso. Per il primo cittadino e per il vigile urbano sono scattati gli arresti domiciliari, mentre per la Guardia giurata si sono aperte le porte del carcere. Le misure cautelare disposte dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta del PM Ilaria Corda sono scattate nell'ambito di un'altra inchiesta scattata a maggio di quest'anno e condotto dallo stesso magistrato per alcune gare d'appalto bandite dal comune nelle quali sono coinvolti due degli arrestati di oggi. Gli inquirenti hanno rinvenuto e sequestrato nell'auto del vigile urbano un pizzino sul quale erano riportati dati informativi coperti da segreto investigativo, nonché il nominativo del magistrato assegnatario dell'indagine. Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza del gruppo di Giuliano insieme ai colleghi della sezione di polizia giudiziaria di Napoli Nord, diretta dal procuratore Francesco Greco, hanno consentito di individuare nella guardia penitenziaria finita in carcere il corvo che passava le notizie riservate al sindaco e al vigile urbano. Matteo Renzi, ieri sera Benevento ha parlato di imprese crescita e di quanto ci sia ancora da fare per superare la crisi e il divario tra nord e sud del servizio di Alessandro Fallarino. La forza, l'orgoglio e la dignità, quello ho imparato dai vostri discorsi di questa gente. storicamente forte e che ha voglia di costruire il futuro qua. Con queste parole Matteo Renzi ha salutato i Beneventani ieri sera al suo arrivo in stazione a bordo del treno Destinazione Italia. Il segretario nazionale del Partito Democratico ha poi incontrato amministratori, cittadini e gli imprenditori sanniti presso il consorzio AFI. Proprio questi ultimi, per voce del presidente di Confindustria, Filippo Oliverini, hanno lanciato un accorato appello. La regione Campania, dopo un anno, ha pubblicato un avviso pubblico, scarso nelle risorse. Su otto imprese ammesse sono state finanziate solo tre. Basterebbero altri 5 milioni di euro, solo 5 milioni di euro, per garantire a tutto un dovuto ristoro. Dura la risposta del sottosegretario Umberto del Basso De Caro, che non ha usato mezzi termini, per ribadire che solo grazie al governo Renzi si è creata una norma, che prevede ristori per le aziende distrutte da calamità. I cittadini, persone fisiche, sono state risarcite. Veniamo alle imprese. Il pezzo al quale ha fatto riferimento Oliverini è un contributo regionale che non è sostitutivo, è aggiuntivo di quello statale. Furono messi 10 milioni, con quei 10 milioni sono state finanziate tre imprese sanite, ne sono rimaste fuori altre, bastano 5 milioni, questo è vero. Anche io, con la stessa forza del Presidente Oliverini e con lo stesso senso di giustizia, chiedo che la Regione, si tratta di fondi regionali, metta a disposizione immediatamente 5 milioni. Tutta la verità è che c'è ancora una distanza troppo grossa tra il nord e il sud e c'è bisogno di un investimento gigantesco perché questo mezzogiorno, così forte e prezioso, possa avere tutte le carte in regola per giocarsi la partita del futuro. Questo è il senso del viaggio, è il senso del parlare di industria e di impresa e di aziende e di lavoro nel mezzogiorno. Renzi lancia segnali di speranza anche nella sua tappa in treno in Valle Uffita. Nessuna protesta ad Ariano e Flumeri, fatta eccezione di qualche timida reazione verbale. Arriva puntuale alle 8.30 alla stazione di Ariano Irpino il treno Destinazione Italia con a bordo Matteo Renzi. Una diretta radiofonica lo blocca a mezz'ora nel vagone, l'attesa è snervante, poi finalmente esce, si scusa con tutti e stringe la mano al segretario cittadino del Partito Democratico, Raffaele Grasso. Siamo molto contenti, questo diciamo ci premia per quanto è il lavoro che stiamo facendo. Un pensionato con un biglietto in mano accenna una protesta, nessun contatto diretto con la gente, qualche selfie, un saluto volante, via rapidamente in auto in direzione Flumeri. Il servizio d'ordine diretto in prima persona dal vicequestore Maria Felicia Salerno è stato curato alla perfezione lungo tutto il tragitto. Nel grande salone della IA ci sono operai e familiari, Renzi dopo aver incontrato gli amministratori del territorio, dribbla anche qui i giornalisti, microfono in mano, parla così del miracolo Irisbus. Mi pare di poter dire che dopo cinque anni noi qui avevamo preso degli impegni e qualcosa abbiamo fatto, ma io sono primo a dire che c'è ancora molto da fare. La mia presenza qui è il senso di un impegno che continua, andiamo avanti, andiamo avanti insieme, e in bocca al lupo a tutti e a ciascuno. Mi raccomando che gli autobus siano autobus di qualità, ho chiuso su questo, però è importantissimo. È fondamentale vedere la differenza tra chi parla per slogan e chi parla nei fatti. Noi in questi anni qui alla ex Irisbus, a chi mi dice che avete fatto, ho un elenco di cose che abbiamo portato a casa. E queste cose però io sono primo a dire che non bastano, non lo dico alle famiglie degli operai guardandoli negli occhi, non è finita qui. C'è da vincere la sfida dei prossimi anni. Se non seguiamo gli slogan e l'ideologia di chi fa solo polemiche, ma ci mettiamo a lavorare, vinceremo anche questa sfida. Ciao a tutti, grazie di cuore, buon lavoro in bocca al lupo. Soddisfatto e radioso in volto il patron della IA, Stefano Del Rosso. Siamo molto felici di questa visita, come siamo e saremo felici della visita di ogni responsabile politico che degnerà questa nostra umile fabbrica della propria presenza. La cronaca, un pregiudicato di Casoria, è stato ferito a colpi d'arma da fuoco all'uscita del carcere di Seconde Iano. L'uomo è stato centrato dalle pallottole in pieno volto ed è stato ricoverato d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giovanni Bosco, dove lotta tra la vita e la morte. L'episodio è avvenuto poco dopo, le 7.40. Raffaele Russo, 40 anni, di Casoria, pluri pregiudicato con diversi precedenti alle spalle per reati contro il patrimonio e armi, era in regime di semilibertà ed era appena uscito dal penitenziario per andare a lavorare in un comune vicino ad Arzano. E' stato colpito da diversi proiettili mentre si trovava a bordo della propria auto. I carabinieri indagano sull'episodio ed è stato arrestato in una villa a Ditre, il boss del clan Contini. Torna in cella Nicola Rullo, il rass delle case nuove. Vediamo le immagini del blitz dei carabinieri nel cuore della notte. Simonetta Ieppariello. Torna in cella Nicola Rullo, presunto boss della zona detta delle case nuove nei suoi confronti. E' diventata esecutiva una condanna a dieci anni di reclusione per una presunta estorsione. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli lo hanno catturato in una villa in collina di Itri, Latina, nella quale hanno fatto irruzione insieme ai cacciatori di Calabria, i carabinieri specialisti delle ricerche in zone impervie. Rullo, 47 anni, già noto alle forze dell'ordine con il soprannome di Nicola Unfamone, e ritenuto il reggente del clan Contini, il sodalizio camorristico che insieme ai licciardi e a Mallardo ha costituito l'alleanza di Secondigliano. Rullo era scomparso nel settembre scorso, quando aveva presagito l'esito sfavorevole del suo ricorso in appello contro una condanna in primo grado per estorsione aggravata dalla finalità mafiosa. Difeso dai penalisti, Salvatore Pane e Saverio Senese, Rullo era stato assolto in primo grado, ma i giudici di appello hanno accolto il ricorso della DDA, condannandolo a 10 anni di reclusione. Sorpresi mentre dormivano nelle stanze a piano terra, il ricercato e il suo uomo di fiducia Roberto Murano si sono lasciati ammanettare senza opporre resistenza. Al piano superiore c'era invece il nipote di Rullo, Davide Geldi, che nelle stanze e nelle immediate vicinanze aveva 100 grammi di droga tra marijuana e hashish. E non ce l'ha fatta il bimbo di una coppia di Monteforte e Erpino di soli due anni morto al Cotugno di Napoli per una sospetta meningite, si chiamava Pasquale. Il bimbo ricoverato era sottoposto a terapie varie per cercare di sconfiggere la malattia che purtroppo non gli ha dato scampo. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti amici e parenti e tutti colori che conoscevano la famiglia colpita dal grave lutto a cui è giunto il cordoglio del sindaco di Monteforte, Giordano. La famiglia molto religiosa ha avuto la vicinanza del parroco Don Giuseppe Parisi di Avella che sulla sua bacheca Facebook ha scritto grazie per le preghiere. Cambiamo argomento. Il fronte antimovida illegale si allarga anche a Federalberghi. ora insieme ai comitati minacciano il ricorso al TAR per dire stop al caos notturno. I venti comitati di cittadini che si battono contro il caos e la violenza della movida napoletana si riuniscono a Piazza Bellini per presentare il loro manifesto e poi fanno richiesta al TAR per dire stop alla movida violenta. Assieme ai comitati ci sono anche Feder Consumatori, Abba, Cadoc, c'è anche Federalberghi, rappresentata dal presidente Izzo. Un mix di professionisti arrabbiati e donne distrutte dal mancato sonno, di aspri critici della giunta arancione e moderati osservatori della vita cittadina. Il fronte antimovida illegale, quello delle decine di comitati che da Bagnoli al museo chiedono persino controlli sulle licenze dei troppi nuovi baretti, si allarga ufficialmente con le adesioni delle associazioni degli operatori turistici, albergatori e B&B presenti con i vertici provinciali all'hotel Bellini per la presentazione del manifesto. Fino adesso i provvedimenti già più volte annunciati e persino enunciati, i loro effetti sono tali che siamo qui a dire che in realtà non va bene. Adesso annuncio nuovi provvedimenti, c'è da curarsi, visto che il sindaco di questa città che abbia successo in questi provvedimenti, li valuteremo nella loro concretezza. E scatta il sequestro preventivo dell'intera area della solfatarea di Pozzuoli per impedire la commissione di nuovi reati dopo la tragedia dello scorso 12 settembre in cui hanno perso la vita tre componenti della famiglia Carrer, figlio, padre e mamma caduti nel crepaccio lungo il percorso di visita del vulcano. Secondo il GIP di Napoli c'era una situazione allarmante. Stando a quanto trapella dal lavoro degli inquirenti, è stata esaminata tutta la documentazione sulla valutazione dei rischi sia dal punto di vista della sicurezza e della incolumità per tutti i lavoratori, degli utenti, visitatori, sia per il profilo del rischio legato alla natura del rischio idrogeologico e vulcano logico. Le indagini sono scattate dopo che Lorenzo, 11 anni, ha oltrepassato una zona proibita, scavalcando una recinzione seguito dal padre Massimiliano, poi dalla madre Tiziana, nel tentativo di fermarlo. E tutti e tre sono morti. Manovre politiche in regione Campania, alternativa popolare sempre più vicina alla maggioranza. Asse Lupi De Luca per un nuovo polo centrista con De Mita. Ieri mezz'ora di colloquio a Palazzo Santa Lucia tra il governatore e il coordinatore nazionale di AP, Maurizio Lupi, e quello campano, Gioacchino Alfano. Rossella Strianese. Da soli alle politiche, con De Luca in regione Campania. E' questo lo scenario che si prospetta per alternativa popolare di Angelino Alfano, che per il momento rinuncia alla coalizione col PD a livello nazionale, ma in Campania apre a sorpresa il dialogo con il presidente della regione, Vincenzo De Luca, in chiave di nuovo soggetto centrista, insieme all'UDC, già organicamente in maggioranza. Ieri mezz'ora di colloquio a Palazzo Santa Lucia tra il governatore e il coordinatore nazionale di AP, Maurizio Lupi, e quello campano, Gioacchino Alfano. Nella scorsa consigliatura erano al fianco di Stefano Caldoro, nel centro-destra, ora però gli alfaniani, anche se ancora all'opposizione, si posizionano un po' più vicini a De Luca. Ma il trasloco sembra ormai prossimo. Al momento però AP non ha un suo rappresentante in consiglio, perché l'unico eletto, Pasquale Sommese, è ancora agli arresti domiciliari. Il riferimento potrebbe essere il consigliere regionale Giovanni Zannini, eletto in quota a Centro Democratico Scelta Civica, con il quale l'ex ministro Lupi, l'altro ieri, è andato a cena a Benevento. In molti ritengono possibile che Zannini a questo punto possa aderire ad AP, consentendo al partito di riavere voce in aula alla regione. Nel frattempo Lupi ha anche incontrato ad Avellino Cirieco e Giuseppe De Mita, in chiave di un nuovo soggetto centrista. I De Mita non intendono fare da quarta gamba il centro-destra, ma prima di consumare lo strappo finale sperano di riprendersi il simbolo dell'Udc. Omicidio tornatore, i risultati del DNA riaprono la partita della traccia biologica. Secondo i dati di laboratorio, le tracce ritrovate sul luogo del delitto non combaciano con quelle di Rocco Ravallese, uno dei due indagati nel delitto di Contrada, in provincia di Avellino, avvenuto ad aprile scorso. Mentre per l'altro sospettato del delitto, Francesco Vietri, ora detenuto nel carcere di Bellizzi, gli inquirenti hanno già effettuato un sopralluogo nel garage di sua proprietà, dove sono state rinvenute tracce ematiche appartenute alla vittima. Le indagini quindi continuano per verificare l'esatta dinamica e risalire agli autori materiali dell'omicidio. Ora è ufficiale, luci d'artista quest'anno saranno inaugurate in ritardo. Il sindaco di Salerno ha ammesso che per via del ricorso al TAR il montaggio è partito dopo il previsto. Ora è corsa contro il tempo per farsi trovare pronti al più presto. Giovanni Battista Lanzilli. L'incognita legata al TAR, poi superata grazie alla rinuncia alla sospensiva da parte di Blasher Illumination per discutere nel merito il prossimo 7 febbraio, ha lasciato comunque dei contrattempi per l'inaugurazione delle luci d'artista. Rispetto agli anni scorsi, infatti, Salerno vedrà l'accensione delle luminarie in ritardo. Sicuramente non il 3 novembre, come era stato paventato da Palazzo di Città in un primo momento, ma almeno una settimana più tardi. Del resto, lo stesso De Luca aveva lasciato intendere che il tempo non sarebbe bastato e nonostante le operazioni di montaggio procedono a ritmo serrato, a ufficializzare il rinvio dell'inaugurazione della Kermess Natalizia è stato questa mattina il sindaco Vincenzo Napoli. Turni di lavoro massacranti, sono grato alle mie estranze per quanto stanno facendo. Abbiamo dovuto recuperare tempo per un'azione che è stata prodotta al TAR, rispetto alla quale noi ci siamo difesi con un atto intelligente, completo e pienamente legale, che credo fino ad ora ci abbia dato ragione e quindi stiamo procedendo, tentando di recuperare il tempo perso. Mentrerei il cauto, la data non credo che sarà il 3 novembre perché noi ce la facciamo materialmente. Comune di Avellino e Irpini Ambiente serrano i tempi per partire con la differenziata in città. Saremo pronti entro la fine dell'anno. Entro dicembre partirà la differenziata ad Avellino. Parola dell'assessore all'ambiente Augusto Penna e dell'amministratore di Irpini Ambiente Nicola Boccalone a margine dell'inaugurazione della prima dog toilet in città. 100 euro di multa per chi non raccoglierà i bisogni dei propri amici a quattro zampe. Nelle prossime settimane, commenta Boccalone, inizieremo anche con la raccolta dei farmaci scaduti e delle pile esauste. C'è questa raccolta differenziata ovviamente, ma quella diciamo così dell'organico e delle altre filiere entro dicembre prossimo, diciamo tra un mese, poco più di un mese, previa a distribuzione dei carrellati. Gli fa eco Penna, stiamo mettendo a punto i dettagli della differenziata. Con lei entro fine anno partiranno anche i controlli che saranno serrati. Via via questi materiali stanno giungendo, gli ultimi arriveranno nella seconda settimana o terza settimana di novembre. Partiremo quindi a inizio dicembre su un quartiere sperimentale, sarà un quartiere periferico, più le case sparse afferenti a quel quartiere, perché vi ricordo che il servizio porta a porta sarà esteso e è esteso a tutte le case sparse. Partiremo anche con i controlli sulla corretto utilizzo degli attrezzi, delle attrezzature che saranno distribuite e sulla corretta effettuazione della raccolta. Boccalone torna anche sulla sporcizia che ormai imperversa in città, dal centro alle periferie. Alternative alla differenziata non ne conosco, ma anche il senso civico dei cittadini deve recitare la sua parte. Dove c'è un calzonetto istintivamente si è portati a sversare in maniera senza limiti e senza disciplina di orario. Noi ci capita di recuperare e svuotare il calzonetto dopo due ore già pieno nuovamente. E parte da Benevento il camper rosa della Polizia di Stato contro la violenza sulle donne, iniziative che vedrà il camper in cinque piazze sannite da oggi fino al 13 dicembre. Vediamo. Questo non è amore, è lo slogan con il quale la Polizia di Stato scende al fianco delle donne contro la violenza. Presentata questa mattina a Benevento l'iniziativo del camper rosa della Polizia di Stato, che da oggi fino al 13 dicembre girerà in cinque piazze sannite, con la speranza che le donne si facciano coraggio e denunciano eventuali violenze subite. Nel camper presenti le donne della Polizia di Stato, al fianco di chi subisce violenze fisiche e psicologiche. Noi siamo impegnati dall'anno scorso in questo tipo di attività di prevenzione e di informazione relativamente a fenomeni come quello a cui lei accennava, il bullismo, ma anche quest'anno della violenza di genere, della violenza sulle donne in particolare. Noi ci rendiamo conto che in particolare per questo tipo di reati, che sono particolarmente odiosi, è molto difficile per la vittima denunziare. Riteniamo quindi che sia assolutamente necessario che chi ci guarda possa comprendere chi siamo, chi ha davanti, quali sono i suoi interlocutori, perché soltanto da questo rapporto di fiducia, quello che faceva Genno, si può poi pervenire alla possibilità di una denunzia da parte della vittima. E Battipaia dice no all'impianto di compostaggio. Ieri una delegazione di cittadini ha parlato con Renzi, chiedendo sostegno nella battaglia, ma in scontro con la regione. De Luca è categorico. A Salerno l'ho realizzato cinque anni fa e sono stato premiato dall'Europa. Vediamo. Non solo dirigenti di partito, rappresentanti istituzionali e gente comune. Ad accogliere ieri il segretario PD Matteo Renzi a Pestum c'era anche una delegazione di Battipaglia, venuta nella città dei Templi per sollecitare l'ex premier ad iscriversi al fronte del no per l'impianto di compostaggio da realizzarsi nella cittadina della Piana. Cartelli e slogan per ribadire come Battipaglia dica no, anche perché è la lamentela di sindaco, associazione e gente comune, sul fronte rifiuti il territorio ha già dato. Renzi a bordo del treno ha incontrato la delegazione composta solo da donne, ascoltando i timori e le rimostranze del territorio, ma è improbabile che la regione Campania decida di fare un passo indietro. È stato proprio il governatore, citando se stesso, a dire chiaro e tondo come la pensa sull'argomento, mentre i battipagliesi non ci stanno. Io da sindaco ho realizzato il mio impianto di compostaggio da da cinque anni, ricevendo un premio dall'Unione Europea per aver realizzato una delle opere più significative in campo ambientale. Non penso di dover aggiungere altro. Fin qui il governatore, ma il territorio non ci sta e le agguerrite componenti del comitato sono pronte ad andare fino in fondo in questa battaglia. Non abbiamo avuto ciò che ci era stato promesso dalle istituzioni, non abbiamo avuto le bonifiche, non abbiamo avuto i controlli, lo dimostra la notizia che lo stile se non mette a posto tutto quello che non funziona entro 15 giorni sarà la stessa regione a chiuderlo. Quindi noi pensiamo che siccome Battipaglia è la capitale della Piana del Sele per altri tipi di industria, per la mozzarella, per la quarta gamma, abbiamo un'agricoltura che finora ha salvato parte della città dalla crisi economica che c'è. Quindi è molto importante ripensare a questa collocazione. È tutto con il nostro Tg, grazie di averci seguito. Ora ci sono le previsioni meteo e poi il Tg Sport. Grazie a tutti. Grazie a tutti.